Dove stiamo andando? Come siamo? Io vado a sinistra e tu a destra. Ah sì, molte grazie per averlo messo a posto, quel macellaio. Ma allora, Nina Leono, è tutto quello che ti ho detto. Pensavi davvero che credessi a quella storia assurda che sarei tuo padre? E allora, la fotografia? È quella appoggiata al tavolo, vicino a te. Questa, visto? Ci sono io e c'è lei. E con questo? Ninosca! No, un barisofice! Fate passare, fate passare! Scusate, signori, scusatemi, scusate. No, un barisofice, il tuo capire. Molte grazie. Non guardare subito, lo vedi quel giovane laggiù? Quella alla finestra, con quel cappotto grigio. Continua a venirmi dietro, dice che è mio figlio. Mi somiglia? Sputato. Sei matta, l'hai guardato. Ma come può somigliarmi col gorilla? Siete uguali, non è affatto un gorilla, è un aquila. Come te da giovane. È bello quando la famiglia si ingrandisce, vero? Ti faccio le mie congratulazioni. Aspetta, devo vedere una cosa. Devi avere ancora sei bottiglie di kefir. Gli piace lo yogurt? Sì, gli piace, gli piace tutto. Mi fai rivedere la foto? A che serve? Ti ho chiesto di farmela vedere. La voglio vedere. È la seconda e la sinistra? Quella con la bandiera. La portava sempre lei. Ah sì? Io invece portavo sempre la torcia. Che stai aspettando? Su, andiamo. Mi scusi. Permesso. No, Barisovic! Il tuo yogurt è appena fatto! Non lasciarlo qui! L'ho preparato per tuo figlio!